Ben trovati alla serie del GDR, siamo di nuovo su Baldur's Gate 3, che è un titolo che mi sta prendendo moltissimo e spero che la qualità video sia migliorata, ho anche spostato il microfono in alto spero che permetta in ogni caso una buona qualità audio nel caso sempre datemi dei feedback nei commenti, vi ringrazio già in anticipo perché grazie a questi posso cercare di studiare quello che può effettivamente far migliorare il video e appunto sono un pignolo di queste cose e adoro fare un prodotto fatto bene quindi aiutatemi nei commenti, ogni consiglio, ogni induzione che avete mi fa solo che comodo per poter andare a studiare qualcosa che mi piace e che poi può portare ad avere un prodotto finale più completo allora intanto spero di offrirvi lo schermo che ho io che è incredibilmente ricco di dettagli, colori, sovrapposizioni, ombre è clamoroso questo gioco, se non l'avete e vi piace il fantasy compratelo che veramente merita l'Area Studios ha fatto un lavoro incredibile e ve lo posso dire già con queste poche ore di gioco perché si nota già la qualità poi non so se andrà a perdersi ma non credo, non credo allora, proseguiamo nella nostra campagna con il nostro Zoldark siamo nella foresta abbiamo fatto quello che abbiamo fatto con l'orso gufo e dobbiamo un pochino capire dove andare per trovare questo guaritore che ci possa debellare dai parassita che abbiamo in corpo che è stato innestato da quell'essere non mi ricordo come si chiama ilizil o qualcosa del genere allora qui non c'è una carcassa vuota ovviamente un'acqua giunco stivali non ce ne facciamo nulla verifichiamo un attimo qua ah, dobbiamo ancora anche entrare nell'accampamento dei signori che abbiamo salvato prima e sarebbe anche il caso di di andarci poi non so se alcune parti magari di questa perlustrazione sono noiosi ditemi se magari imparo come si fa una velocitazione del video quindi andiamo magari a speed per 2 e quindi magari si velocizza appunto la fase di porta di pietra adesso prima entriamo qua si velocizza magari una fase in cui non succede nulla a schermo di particolarmente interessante ma si studia una nuova area non mi apre? ah ciò abbiamo anche salvato le chiappette a questi bosco smeraldo qua si può salire? non c'è niente ok qua ci sale fatemi film per costare tutta questa zona non c'è nulla no è possibile che non ci sia nulla niente di niente dopo parlerò con lei voglio andare a correre il cammino no no non ho fatto niente no signori signori non vi ho fatto niente ah un assassino è questo il nemico allora gale ragnatera che inquadratura mai fatto ok e ti sposto magari qui per poterlo colpire meglio oh vediamo un po' un bel un bel raggio un detonante mani brucianti da vicino però funziona vero? funziona lontano un figge è un dardo o no? no non è un dardo questo però dardo di fuoco lo posso usare adios mi sa solo 10 un popopo speravo di fare qualcosa di più te vieni avanti non hai detto e poi gli tiri una freccia è una pazza speriamo di colpirlo 50% 5 vai dai 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 buono ti avvii il turno signorina anche lei venga avanti e gli facciamo una bella proviamo a invocare quest'arma ok e questo ti picchi e basta un bel fuoco porca miseria 9 non ho guardato ecco qui sono i danni ecco devo guardare e evoca un'arma e in base a quel danno dell'arma non so una ascia avrà un danno penso contundente una forca avrà un danno perforante una spada perforante di taglio non so tutti i tipi di tagli di i tipi di danno a seconda dell'avversario possono essere più o meno efficaci giusto ho avuto il culo tremendo che ho preso il danno perforante che gli ha fatto parecchio male questo penso sia contundente resistenza nessuno lui appunto non ha niente di particolare danni contundenti esatto ok non ha debolezza particolare io adesso non posso fare nient'altro posso anche attaccare no posso fare anche questo porca miseria quanti ah c'è anche il signor in arma spirituale che ci segue ok ok mi sta bene l'arma spirituale con noi no allora allora un orso di pezza cos'era un tenerone allora a quest'orso strappato e riparato più volte sembra mancare un solo abbraccio per sfaldarsi in un cumulo di imbottitura ammottita e toppe ricucite era suo però è lui che si è che si è attaccati cioè noi andavamo lì tranquilli morning star un'arma perforante perforante non è contundente quando un tuo attacco manca invece comunque un danno contundente pelero e oro prendiamo tutto e signorina cosa ne può dire lei bugbear non so chi sia Vernus non so chi sia ho visitato Vernus ma non se volete no gli dico moneta padrona che intendi sarebbe una cosa un po' difficile da spiegare non si crederebbe mai non mi crederesti proviamo oddio prova di carisma ok ho un vantaggio personale bonus niente aggiungi un bonus guida ok proviamo vabbè 5 era vabbè ottimo era inutile questo bonus spero di non entra non l'ho perso non ho guardato la classe difficoltà esatto ah mi dà così facilmente l'amore dell'anima contiene un'anima di un mortale perché sono di questo di questo colore io ah guida ok va bene posso dare un'occhiata con il telescopio vediamo un po' un drago ah interessante gli amici di chiudere gli occhi dovrò focalizzare telescopio 3 potrò fare 3 c'è una percentuale dai c'è riprova tira di nuovo sarà possibile fare 3 vabbè ho usato un bonus voglio capire di più di quello che sta attorno quindi bisogna di capire meglio posso spostarlo questo è il tirannico greedy and vain they hunt questi sono i tirannici vedi un drago rosso ok e voglio spostarlo verso sinistra ok verso destra ancora a destra va bene posto allora capiamo qui cosa possiamo fare per ottenere dei vantaggi copriamo tutta la zona giriamo ricordiamoci che dobbiamo ancora trovare una pala oltretutto magari c'è qualcosa di interessante qui si può scendere si può spingere sta l'erò non vorrei fare dei casini dei casini non nel senso spaccare roba non voglio fare dei casini che loro magari si arrabbiano per qualcosa che ah no no prima andate qua chiacchieriamo con questi no vabbè vabbè Ora, se dicono che c'hanno un druido, sarebbe una cosa stupida dire che non hanno preso Belle corna Il sangue è sporco Lui sta provocando l'altro ma l'altro c'è Siamo messi male La frenesia, la paura e la rabbia li sta portando a fare qualcosa di stupido Persuadiamoli 15 E' davvero così difficile? 14, che curo con guida Superiamo sta prova Qui è andata bene Qui è andata bene Ok, lui è un codardo L'altro invece è un po' una testa calda Siamo messi bene Eh, vabbè Saliamo Un codardo la testa calda Parliamo con Rick Caldani Va bene Caldani Questo qui È morto uno ma Siamo sotto un attacco Di Goblin Forse ne arriveranno altri Eh, vabbè Questa è l'unica Che capisce Potete respingere un'ora da questa posizione Avete un vantaggio Oh, quanto siamo lontani Una decada di cammino Cos'è una decada di cammino? Cioè, dieci giorni? Penso che dica dieci giorni Qua possiamo ristorarsi col fuoco Poco d'accampamento No, possiamo accenderelo e spegnerlo E' effetti perciò di canon No, adesso non voglio Ho una pala No, la pala dovevo prenderla Eh, nascondersi Ok, basta Solo una pala ho preso Poi ve la riporto nel caso Non vi preoccupate È una pala, eh Non voglio dover uccidere tutti Per una pala Spero che capiscano Conto rubare Che ne so Un cimelio Conto una pala Spero che si sia questa Profondità Zebdor Aradin È un pallone gonfiato Presentiamoci Presentiamoci I druidi Vogliono cacciare via tutti Quindi questo posto A parte nei druidi Ma perché Uno è stato rapito E loro perché Lo vogliono salvare Non è chiara Non mi è chiara Poi magari Mi sono perso dei pezzi Io non ho mai avuto Nulla conto di druidi Perché vogliono Mandarvi via Quei droppi Mi hanno attaccato Altre volte Nesta roba Sto cercando Un guaritore I problemi loro Non me ne frega Proprio nulla Direi che Sto cercando Un guaritore Un rituale Sono curioso Di questi druidi Che poteri hanno Vedrà cosa posso fare Se ci porterà Dei benefici Aiutare Per avere informazioni Su magari Pure Potremmo farlo Voglio capire Cosa c'è In questo In questo Accampamento Se non sono guerrieri E dicono Ma come sono arrivati Qua Cosa Stanno facendo Non è che mi interessi Però Perché dovrei aiutare Questi Una grotta Una targa Anche questa Scomparsa Questo animale Questo animale Un nano Arron Chi è Arron Scommerciante Forse possiamo vendere qualcosa Cosa Per È davvero Di sigillare Il boschetto e la gente che demora qui è molto egoista come pensiero questo vuole mettere al sicuro lui e i suoi compagni sembra che molti loro siano titoli se la chiamano qui ma da solo ok facciamo frosaglie a rompiede lesto allora commerciare e barattare ci sono due modi per comprare e vendere oggetti grazie per avermi fatto leggere vabbè cosa sai di interessante allora intanto io vorrei vendere tutte le armi inutili che ho posso mettere in ordine valore pietra pesante vale anche dell'oro uno di oro pennino la tengo l'orsetto lo tengo lampone mi serve forchetta forchetta cucchiaio candela questo lo tengo lo tengo eeeh riesco a fare in tre ma guarda ti tirano l'oro dietro come con estrema facilità allora adesso l'altra però la tengo cucchiaio gli anelli qua intanto non hanno nessun valore magico quindi non ci serve veramente a niente l'incenso che costava una valanga ora lo vendo volentieri eeeh l'onis è anche questo non ci serve a nulla il coltello vale uno sbarotto glielo vendiamo giada ah questo lo abbiamo preso un darman fly il peloto ma non ci serve a nulla pia 36 è la mia roba si si è questa la mia mi sto pensavo di comprare la luce la sua allora more install la tengo queste ovviamente le tengo ma la chita il veleno troppo lo tengo i bicchieri te li vendo tranquillamente dove sono i miei denari 700 ok cominciamo a fare un po' di di soldi medaglione d'argento per papà medaglione d'argento finalmente questo lo teniamo magari servono a questa questo è strano lo tengo ancora un attimo delle ossa te le do volentieri ancora degli altri piatti vediamo cosa mi dai pergamena rilascita corazza ad anelli più uno vale 500 aiuto fisico tene di broni spiriti delle salvetta svantaggio alle prove di fruttività questo sarebbe per la nostra lady level ma cattura proiettili rari io volevo cercare se ci avessero un bastone un bastone per mago avranno dando la pioggia creare anche acqua mi da però è basso il 07 voglio qualcosa di più potente ruba magia per quanto costa 250 veramente troppo veramente troppo ferse di fuoco ferse del fulmine non ci interessa nulla credo non c'ha delle chiavi ha una posizione per parare con gli animali che magari ci potrebbe essere utile vita falsata risata questo potrebbe essere invece utile risata in contenibilità ascia 100 porca miseria e pergomeno oscurità invisibilità polati di vento se si ok e basta abbiamo speso tantissimo per queste cose eh ok adesso però li usiamo allora polata di vento no 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 voglio imparare non posso impararla ah non è da imparare speravo di sì è un uso è solo un uso vabbè ci potrebbe sempre servire molto situazionale ma va bene qua siamo nei bassi punti aspettiamo 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 vedete anche di qua magari c'è qualche quest importante oddio chi è Roland cosa fai Bells, non possiamo solo lasciare, sono ragazzi Non vi faccio i nostri vivi, i nostri futuri, su persone che sono così buono come morti Deve lasciare per Baldur's Gate, a volte Possiamo tutti prendere un momento, per favore Qual è il punto in blazing spettacolo se non usiamo di usare? Deve restare, queste persone non sono combattere, possiamo aiutare Oh, chiede louder, è bene anche Gli altri non sanno difendersi, loro invece sanno combattere Forse loro potrebbero salvare vite Direi che dovrebbero rimanere Però di loro, cioè me, non ne va nulla in tasca È la cosa giusta da fare, poi faranno loro Ha anche una bella armatura, quindi dovrebbe essere anche Capace Oh, c'è Will Vediamo un po' Poi c'è anche i bambini Oddio È contro i veri goblin, ragazzo Questo Quex, chi è Quex? È un ragattotto, diciamo Qualcosa non va? Eh, almeno lo sai Allora, la perdica sicuramente non è nostro forte Non è equilibrio nelle gambe, può darsi che potrebbe dare una mano, avere già più equilibrio Uno Tiene di nuovo Nove più due, undici Ci abbiamo fatto Potrei anche saltarci a questi tiri Potrebbe anche andare pezzo Anche se non gli dico nulla e pallisco fatti suoi Cosa sai? Continua ad allenarti Cosa mi dai? Mi hai detto che mi davi qualcosa che ho trovato lungo la strada Credo che non sia un bastone Soldato alle armi Ah, ispirata Ah, ok, ok Ascia da battaglia Ascia da battaglia Questa 0-9, tagliente 0-9, tagliente Lei mi disapprova un po' Lei Vabbè Gale Sei l'unico che è No Siamo più o meno lì con tutti Asher A che te ve lo tra Questo dovrebbe essere Che cosa è un comandante? Solo è già finita? Will? Cosa mi dici? Cosa sei Will? Chi sei? Ha un occhio Che è stato Probabilmente attaccato da qualcuno Non so come te Adesso che è un bambino Si deve guadagnare tempo per scappare E' un buon consiglio Questo non c'è No Ha un buon consiglio Ascoltalo Ci sta Allia Mi è venuta voglia di fare una build Con un'ascia di penne Insanguinata No Vediamo comunque il mago Ma Quindi lui era sulla nave E già ha fatto Mi esiste con questi Stai insegnando i bambini A combattere Quanto tempo siamo stati venuti noi? Se lui in due giorni Mi è venuto azzardato Mi è venuto azzardato Quanto meno Quindi non immaginavo fosse sulla nave Anche lui Pensavo fosse lì Semplicemente lì Da più tempo Non che fosse cresciuto in quel villaggio Ma che Stesse facendo un giro Un qualcosa Quindi ha avuto anche a che fare Con l'inferno lui Bene E sarei curioso di chiedere Chi era quella donna Con l'ascia di penne Però No Diciamo quello che pensiamo subito Advocatus Diaboli Advocatus Diaboli Advocatus Diaboli Advocatus Diaboli Advocatus Diaboli A champion in the blood war Between diabolical forces And demons Her name is Karlak An archdevil soldier I swore on my good eye to kill Ah I tracked her through the hells To the mind flayer ship But the damned elitids infected me Before I could end her She's out there now Preying on the innocent I don't kill her She'll leave behind nothing But a trail of corpses Questo sarà tipo Un tank clamoroso Quindi ci sono le forte Diaboliche Chiamiamole Io sono più preoccupato Per quella situazione C'è un girino Sì Capisco le tue preoccupazioni Ma c'è un girino In listile In listile Ecco E quindi Non cerchi un guaritore Un listile a me Quale è il mio accampamento? Sì Ah E' proprio Corre il mio accampamento Bene Bene Qui c'è un libro Il mater del martire Sente il dolore Sobbarcandosi i mali Di ogni reghetto Quando il nome degli altri Qualcuno muore Il mater Il mater E' Chi è il mater Dal latino Mater E' la madre Però Il maestro Potrebbe essere Non è madre E' maestro Mater Non mi ricordo più Da il mater E' il suo sarà benedetto E' tipo un sacerdote supremo Qualcosa così Mi viene in mente Però Non saprei al 100% Jergar Almeno Così ti racconto Al suo trono di ossa Vuole rinunciare Il nome di Kelemvor L'ho già sentito Kelemvor Dei morti Fa il conto Il nome di Kelemvor È L'avvizzito No O comunque C'entrava nella cripta Jergar Almeno così ti raccontò Al suo trono di ossa Vuole rinunciare Il nome di Kelemvor Dei morti Fa il conto Per impedire alle anime Di vagare Kelemvor Signore dei morti Ti prende Quando la tua ora verrà Guida le anime Sui sentieri contorti Verso un giusto E meritato al di là E' una Bella filastrocca Posso Prenderlo? No Vino Qua posso rubare Tranquillamente Davvero Davvero Posso rubare Tutto quello che c'è Così bellamente Cioè questa è la loro roba Ah no Invece è rosa Ah ok Lui che sta allenandosi Paolo di umore Qualcosa sì Qualcosa no Non ho capito Perché Vabbè Questa è roba Di tutti Forse Va bene Qui non mi sono Un po' Sturbare Era maschi Sei Cosa puoi Vendi Eh un po' Incazzata Signorina Colata di piastre Più uno Di chi è sta roba Di chi è sta roba È tua signor Lei è un Pabbro Dumball Grazie per avermere spinto Quei blomming Devi studiare Quei blomming Devi studiare Che di pure amare Ah Se mi regalassi qualcosa Fai vedere La tua Cazzia Al momento C'ha 5 Ho un po' Di soldi Io no Io sono un po' A corto Di Di indini Allora Però ti posso vendere Qualcosa Che ho trovato Giusto Valore Non mi stica Non la tengo Il boccale Uno Ho trovato Delle cose Che non Mi servivano Tipo questa Potrei anche Costare anche 20 Ma c'è da battaglia Però aspettiamo Mette l'anima Ah la mia Costa 26 Quando la compro Costa 120 Interessante Lui Cosa Vorrei vedere Tipo Quando la guarda P1 Un bastone Ce l'hai? Meno Bastone Ferrato P1 Allora Cosa fa? Posso esaminarlo? Ok Mi interessa Che sia contundente 163 No no Va bene così Ah Niente Temi la conversazione Vorrei rubargli Due cosine Ma Non è il momento Mili Cosa vuoi fare? Fatti fatti Tu hai Grazie Aradin Ok Ti rispetto Da dove venivano I goblin Quindi più avanti Probabilmente Ci sono quelle rovine Che abbiamo visto Vicino alla grotta Dell'orso bufo Alzin Alzin Ok avventurieri I goblin I goblin L'hanno preso Mentre Sadevamo a gambe A quest'ora Starà scavando Latrine Scavando latrine O bollendo In un calderone Ok Posso dare un calderone A quel contratto Pensare Se avete stato A diventare ricco Siete scappati Mi fa vedere Il contratto Dovare il caldo notturno Bene Interessante Dimmi solo Dove si trova Certo Dovrebbe essere Una scuola più sotto Il tempio Dove i goblin Ci hanno salito Ok Eh Grazie Non ti preoccupare Ragazzo Non ti preoccupare Volantino stampato Dove è andato Dove è andato Volantino stropicciato Con un salvagante sigillo Proclamo Ovviamente E' avventuriero Esatto Il maestro Lorrokan E l'arcanista Atkatla Il recluso Dell'attore Iramani Recruita Iramani Recruita Per profanare un'incidoso Tempo sepolto Recuperare lo storico Artefatto chiamato Canto notturno E riportarlo E riportarlo integro A Baldur's Gate Credi sono i forti di cuore E i lessi di mente Ci si garantiscono Fama Gloria E fortuna Incredibili Vinite Vinite Signori Va bene Dobbiamo ancora esplorare bene Questo Qui è ancora lui No Danis Chi è questo Vorrei vedere Vorrei chiacchiare un attimo Con questo signorino Qui Mi sembra Carini 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 Sono solo Di passato Eh non lo so Un boccale di birra Una stanza Apurita Mi farebbero dovere bene Piani Sopravvivere dagli altri Non verrò con voi Farò una capatina Alla siena timida Un po' rustica Ma la birra Costa poco Un boccale di birra Una stanza pulita Mi farebbero davvero bene In questo momento In questo momento Perché poi dopo andremo più avanti Va bene Io stacco questo episodio Così vi preparo anche il prossimo Un salutone a tutti quanti E E Fra un attimo Ripartiranno Cioè ripartirò A resistere Quindi Vi rimanderò tutti quanti Due seme Ok? Per non farlo troppo lungo Episodio interessante Questo Abbiamo trovato Delle persone Delle razze Diverse E mi ha fatto un po' di chiacchiere Ci vediamo al prossimo Ciao a tutti